In Friuli Venezia Giulia, nella scorsa settimana, quella che va dal 28 ottobre al 3 novembre, il 27,9% delle persone sottoposte a tampone per la prima volta è risultata positiva al Covid, una percentuale in aumento rispetto alla settimana precedente, quando il risultato era del 19,6% dei testati. Il dato emerge dal monitoraggio settimanale diffuso dalla Fondazione Gimbe sulla trend di diffusione del virus, un rapporto che si ottiene quindi non tenendo in considerazione il totale dei tamponi eseguiti nel corso della settimana, ma solo i test che riguardano la ricerca dei nuovi positivi. Secondo i dati analizzati in regione in una settimana i casi sono aumentati del 35,4%. Le persone attualmente positive sono 474 ogni 100.000 abitanti contro le 283 della settimana precedente. Sono testate in media 919 persone ogni 100.000 abitanti, cifra in aumento rispetto a 7 giorni prima. Sul fronte dei ricoverati con sintomi la Fondazione registra nell'ultima settimana 16,9 ricoverati ogni 100.000 abitanti contro i 35 di media a livello nazionale. Infine i ricoverati in terapia intensiva risultano essere pari a 3,2 ogni 100.000 abitanti contro i 2,6 della settimana precedente. A livello nazionale nel frattempo l'andamento della nuova ondata di Covid è tornato sotto alla lente dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi siamo nella fase di transizione e rimodulazione e nelle fasi in cui ci sono delle ricrescite e su cui bisogna intervenire per controllare la diffusione riportandola a valori più controllabili o a velocità più controllata in modo tale da poter affrontare i prossimi mesi in attesa di poterci collocare in quella che è la fase 3. Dopo 14 giorni, aggiunto Rezza, ci potrà essere una descalation per le regioni così come se nella prossima cabina di regia ci fossero situazioni diverse altre regioni potrebbero diventare rosse. Inoltre il sistema non è così rigido e c'è la possibilità di fare zone rosse anche in una regione che non è rossa.